Assessore, com'è possibile che Corso San Giorgio possa accogliere le bancarelle per la festa di Halloween e non il mercato settimanale del sabato? Quando io sono stato nominato Assessore, vorrei ricordare che il mercato non si faceva più per Corso San Giorgio perché c'era un cantiere in atto che ancora oggi è presente. Dal mio arrivo, quindi le bancarelle dovevano essere spostate a Piazzale San Francesco. Grazie a una scelta mia degli uffici, le bancarelle che stavano in Corso San Giorgio furono portate in Piazza Martiri. Quindi in un certo senso abbiamo aiutato questi operatori e dall'altro lato non abbiamo svuotato il centro. Dopodiché, appena è stato possibile, grazie alla comprensione da parte dell'impresa che stava seguendo i lavori, voi saprete che noi abbiamo comunque fatto più volte il mercato per il Corso. Questo prima che iniziasse la pavimentazione. Dopo, con l'inizio della pavimentazione, l'impresa giustamente aveva detto che era impossibile fare il mercato perché c'erano le variazioni legate alla pavimentazione. Non ci sono più? Adesso diciamo che questi lavori di pavimentazione si sono spostati in alto rispetto al Corso e rispetto alla zona che era interessata dal mercato. Questa mia, diciamo, idea di far fare il 31, mettere le bancarelle per il Corso, serviva proprio per far capire che in attesa che si riconsegnasse il cantiere in maniera definitiva è possibile metterci anche delle bancarelle. ma questo chiaramente senza mezzi e lo si faceva perché da parte del nostro assessorato perché riteniamo che i negozi del Corso hanno subito già, io dico che la crisi non dipende dal 100% per i lavori del Corso ma una buona parte, purtroppo è un fatto oggettivo, che i lavori del Corso hanno rallentato un po' quella che era l'economia delle attività di Corso San Giorgio. Vogliamo ricordare gli appuntamenti della giornata? Sì, oggi noi per la prima volta si festeggerà Halloween in piazza con i bambini, ci sarà anche una fiabba di Aladdin che verrà riproposta qui in piazza, dopodiché i più grandi si potranno divertire fino alle 2 di notte con R9 e quindi con un DJ set che insomma è un modo per far vivere la città. Io questo voglio dire, tutto quello che si fa all'assessore Canzio non cambia nulla. Se si fa qualcosa lo si fa per la città, per rendere questa città, come dire, popolata di gente felice e non certo per fare i danni, quindi se poi alcune volte ci si riesce o non ci si riesce questo lo giudicheranno i cittadini, però da parte del mio assessorato tutto ciò che stiamo facendo lo stiamo facendo per questa città che vorrei ricordare a tutti è la nostra città, prima di parlarne.